Una giornata di sciopero generale contro i tagli dei trasferimenti Stato-Regione lo si è deciso ieri al termine della conferenza dei sindaci riunitasi a Palazzo dell'Aquila insieme alle organizzazioni sindacali. Nel colloquio si è stabilita una piattaforma rivendicativa comune, i cui punti principali sono la richiesta allo Stato di lasciare il 20% degli introiti dell'Imu alle casse comunali e la piena attuazione del patto di stabilità regionalizzato. Inoltre è stato dato mandato alle organizzazioni sindacali di farsi carico, di sensibilizzare gli stati generali delle organizzazioni datoriali e produttive affinché partecipino alla giornata di mobilitazione generale fissata per giorno 22. Si è stabilito infine di estendere la protesta a livello regionale per far sentire con maggiore forza le rivendicazioni degli enti locali nei confronti sia dello Stato che della regione siciliana.